Con l'esposizione eucaristica e la celebrazione dei Vespri sono iniziati ieri pomeriggio gli esercizi spirituali per la curia romana in preparazione alla Pasqua. Gli esercizi si tengono per tutta la settimana, mattina e pomeriggio, alla presenza di Benedetto XVI e danno luogo nella cappella Redemptoris Mater all'interno del Palazzo Apostolico. Si concludono sabato 27 febbraio, dunque durante la settimana saranno sospese tutte le udienze pontifice, comprese quella generale di mercoledì prossimo. Le meditazioni sono proposte da Don Enrico Dal Covolo, salesiano, ed hanno come tema lezioni di Dio e della Chiesa sulla vocazione sacerdotale.